Bravi, bravi figli, riempite bene di odore il soppietto, si mamma, squisito. Il giro d'Italia con Saporitaly, ogni giovedì una regione diversa nel menù di Saporitaly per scoprire le ricette della cucina italiana, un viaggio alla riscoperta delle antiche tradizioni culinarie. Da dieci mesi senza stipendio un futuro in bilico. Come annunciato stamani, il segretario della Funzione Pubblica CGL e 30 dipendenti dell'Aias di Avellino, Nusco e Calitri hanno avviato il presidio permanente all'ingresso della sede Astle di Via degli Impimbo e lo sciopero della fame. Nessuna notizia sul nostro percorso lavorativo, avvertono i dipendenti, nessun segnale, nemmeno per la definizione del piano varato in prefettura, che doveva assicurare l'assistenza ai pazienti dell'Aias attraverso l'impegno di altre strutture riabilitative in Artipinia. Se non ci saranno garanzia sul nostro futuro e il pagamento anche parziale degli stipendi che ci aspettano, non lasceremo la tenda, andando a oltranza con il nostro digiuno di protesta, avvertono d'accunto i dipendenti. Sì, credo che dieci mesi senza stipendio e senza una prospettiva di lavoro siano un problema per chiunque, per cui dato che buona parte di questi lavoratori sono monoreddito, non hanno altre entrate, hanno difficoltà davvero a mettere il piatto a tavola, questa è l'unica alternativa. Sciopero della fame perché davvero per loro, per qualcuno di loro è diventato complicato mangiare ogni giorno. Non abbiamo risposte dal punto di vista economico, seppure abbiamo messo in campo tutte le attività di recupero crediti possibili e immaginabili, i nostri avvocati stanno lavorando. Chiediamo almeno le prime tre mensilità, quelle di luglio, agosto e settembre 2018, per smontare questa iniziativa di protesta, viceversa noi andiamo avanti a oltranza perché non è possibile andare oltre. Ovviamente chiediamo anche, l'abbiamo già detto, che l'ASL chiuda in tempi brevi le procedure per riassegnare i pazienti agli altri centri. So che stanno lavorando, so che stanno facendo il possibile, però per questi lavoratori ogni giorno che passa è un giorno in più senza stipendio. E quindi chiediamo di fare presto e di terminare con celerità le procedure. Siamo arrivati a un punto, come sempre, ad Avellino si tende a mascherare tutto, a cercare di coprire con una patina che porti poi a non parlare più dei problemi. Noi ci siamo ancora e siamo stati abbandonati sia dal nostro centro Aias in quanto i commissari non si sono più fatti sentire e quindi adesso abbiamo preso questa decisione di giocarci anche questa. Cioè per noi siamo praticamente in un limbo, non sappiamo se siamo dipendenti ancora Aias, non sappiamo che cosa siamo, se siamo in ferie, non sappiamo niente. Ci hanno tamponato per un periodo facendoci fare un corso sulla sicurezza. Terminato il corso della sicurezza non ci hanno dato nessuna comunicazione. Aspettano che loro facciano il ricorso al TAR, perché è stato fatto il ricorso al TAR dopo che la struttura è stata sistemata. Chiaramente i tempi del TAR sono biblici, no? Ci hanno detto che per loro dobbiamo aspettare, ma quanto? Non vi resta che la tenda per il momento. Per loro non ci resta che la tenda, sì, esattamente. Grazie! Grazie a tutti.